Di fatto, dalla stazione Lamma di San Fabiano, il dirigente della protezione civile mi ha comunicato che la temperatura non è mai andata sotto zero tutta la notte, se non stamattina all'alba. Quindi non c'erano segnali, non c'erano previsioni che in effetti la temperatura potesse andare sotto zero e creare questo tipo di situazione. Nessuna allerta meteo da parte del consorzio Lamma della regione toscana, per questo il comune di Arezzo non ha fatto uscire i mezzi spargisale all'alba di questa giornata che sicuramente rimarrà tra le più assurde vissute da tanti aretini. Sì, siamo dispiaciuti perché in effetti la manutenzione è pronta a far fronte a casi in cui venga comunicato preventivamente un'allerta meteo. Nel caso specifico non c'era stata data comunicazione, quindi il braccio armato, perché io mi occupo di manutenzione, quindi è l'ultimo anello della catena, non era stato messo in preallerta perché non c'erano arrivate comunicazioni preventive. In verità è una settimana che gli automobilisti, quando più, quando meno, fanno i conti con il ghiaccio sulle strade. In alcuni comuni della provincia, come Civitella in Valdichiana e Monte San Savino, i mezzi sono passati tra le 5 e le 6 del mattino. Dalle 7 in poi sono entrati in funzione tutti i mezzi sia della manutenzione sia delle ditte esterne che hanno il contratto per far fronte a questo tipo di problemi. Quindi ieri sera insomma il sale non è stato sparso sulle strade? Assolutamente no, mentre nelle notti scorse era stato sparso proprio perché avevamo avuto comunicazione che le temperature sarebbero calate e avrebbero potuto creare questo tipo di problema. Insomma, si invoca più che altro il buonsenso e sui social network, dopo la rabbia, arriva anche l'ironia. Questo, uno dei cartelli che l'assessore Gianfrancesco Gamurrini aveva fatto in dialetto a retino in occasione dei tanti cantieri aperti, è stato modificato così. Per i prossimi giorni, quale potrebbe essere la situazione? La situazione sarà la medesima, ovvero di fronte a una comunicazione di allerta da parte della protezione civile ci attiveremo. Diversamente non abbiamo modo di attivarci, dovremmo stare alla finestra però penso che sia abbastanza difficile.